Cari amici vicini e lontani, antiforteti e antibimbiani, lo avrete notato, i più attenti di voi lo avranno notato, in questo momento parlo relativamente poco ed è giusto fare così, è una precisa scelta, parlare poco ed essere mirati, parlare in maniera sintetica anche. E quindi col massimo della sintesi tre messaggi che magari non sono nuovi ma che ritengo utile e opportuno ribadire. Primo, il blackout si sta avvicinando, ma niente paura, è normale, è preventivato, lo avevamo detto. Secondo, il 97% del denaro è già oggi digitale, già oggi allo stato attuale. Quindi anche qui non abbiate paura, non abbiate pregiudizi nei confronti dell'intelligenza artificiale che sarà passiva, passiva. E questo aggettivo passivo non è mai sottolineato abbastanza. Anzi, anzi, salutate con gioia il ritorno al gold standard e l'ancoraggio della moneta ad asset reali, oro in primis. Perché è questo, è questa la vera svolta ed è questo ancoraggio, questo passaggio al gold standard che, per dirla urbanamente, incula le banche centrali. Terzo, avete visto che Trump è indagato, molto probabilmente sarà addirittura arrestato in tempi brevi, questione di giorni, 4, 5, 6 giorni. Non preoccupatevi per nulla, anche questo è un passaggio necessario. Anche questa è esposizione, anzi sarà forse e probabilmente il top dell'esposizione. Detto questo, se vi va, se vi va, se vi va, solo se vi va, mi mettete un bel like, commentate per gli algoritmi e vi iscrivete al mio canale. Sempre però, che lo facciate o no, questo è del tutto secondario, ciò che invece è primario è tenere le vibrazioni alte. In estate, state al sole, esponetevi ai raggi sorali, all'aria aperta, respiratevi, fate delle belle passeggiate e a presto.